Salta e donna, pace in terra e gloria in te, ai tuoi occhi innocenti davanti si parava un radioso avvenire. Tu alle gioia, gli onori e i casi, prevedi, non crede, 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 non crede. Perché volerlo? Quello che valeva di Santa Antonio era l'accoglienza. Se il pozzo l'hanno per caso ampliato due volte anche nel Medioeo è perché le peste, non siamo peste noi, ma peste, vogli altri che vinireano qua come fare, e per bere ci voleva l'acqua. e qua lasciando da parte le radici romane se ci stiamo soltanto a Santa Anatolia c'erano 1500 anni che si vengono a fare è stato un punto di catechizzazione e civilizzazione della zona e ecco il perché si sentono tutti più o meno in casa si sentono in casa perché non soltanto nei periodi della pace ma specialmente nei periodi di pandemia c'erano 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 c'erano